Buongiorno e buon mercoledì 26 settembre a tutti. Eccoci ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Come d'abitudine iniziamo dai quotidiani locali, in particolar modo dal quotidiano del Molise che titola Abusi in famiglia arrestato il nonno, l'anziano approfittato della nipotina di appena tre anni e di un'amichetta. Era l'incubo della moglie e dei suoi figli, picchiati da quando erano piccoli, l'indagine della squadra mobile di Campobasso. Solagrita, l'Italia dei Valori sollecita il ministro Passera, nomini il commissario. Spostiamoci a Montecilfone, pusher in carriera pizzicato dai militari con la droga negli slip. Roccamandolfi cerca funghi e si nei boschi, ritrovato anziano dopo ore. Scapoli l'annuncio bomba del sindaco, niente imu ai commercianti. A termoli minaccia di gettarsi in acqua con l'auto. La donna fuori di sé è stata salvata dagli agenti del commissariato. Panico ieri sera al porto. Intanto a Roma il PDL del via l'operazione pulizia. Guerra tra Disandro e Mazzuto. È come l'imu andrebbe tolto. Per lo sport i lupi sprofondano in ultima posizione due punti di penalità. Il dirigente sportivo Multineddu colpo Russotto dietro l'angolo. Per la Coppa Italia Isernia e Agnone si sfidano per passare il turno. Passiamo adesso al settimanale telematico in forma Molise. Rinviata avvertenza lavoratori di staccati zuccherificio, cresce la preoccupazione dei lavoratori. Violenza e maltrattamento. 74enne in carcere. Si riprende il problema della cattolica. Sceglie il nuovo rettore. Ripercussioni anche nel Molise? Concorso insegnanti. Oggi il bando in gazzetta. La giusta scuola. Sicurezza scuole. Risposte dal comune ma senza termini precisi. Più tasse ai cittadini termolesi quando un comune non sa fare i conti. E adesso passiamo a primo piano Molise che apre riprendendo purtroppo il caso dell'anziano che ha abusato delle due nipotine abusi su due bimbe in cella il nonno orco. L'uomo è stato arrestato dalla mobile con l'accusa di aver violentato la nipotina di tre anni e la cugina di nove. L'inchiesta è partita dal racconto di una delle due vittime a un'amichetta. In passato il 74enne aveva approfittato anche della figlia. Rocca Mandolfi va a raccogliere i funghi e si perde nei boschi. Paura per un 77enne ritrovato dopo ore di ricerche. Termoli dà in escandescenza e tenta il suicidio. Salvata dalla polizia la donna voleva buttarsi in mare. Campobasso si ritorna sul nutaio Puzzone di nuovo alla sbarra per peculato. Rinviata a giudizio il processo a gennaio. La casa di via Berta Mazzuto ha bleffato. Non rinuncio alla mia indennità. Nessun taglio alla politica per finanziare i servizi sociali. Intanto Di Sandro lo attacca. È inaffidabile e inadeguato. Specchietto per la sanità le linee guida del commissario. Dieci posti letto nei tre ospedali di comunità. E per lo sport si riprende naturalmente la Lega Pro. La commissione disciplinare penalizza il Campobasso di due punti. Serie D Coppa Italia. C'è il derby tra l'Isernia e l'Olimpia agnonese. E adesso spostiamoci ai fatti del nuovo Molise. Che apre parlando di politica. nel popolo delle libertà Isernino si va verso la resa dei conti. Il piccolo commercio è a pezzi. Colpa della grande distribuzione. L'analisi è della Confcommercio che segnala. In Molise chiudono i negozi più che in ogni altra parte in Italia. Un record negativo. Il bruto è sempre in mezzo a noi. Anziano, violenta, due bimbe. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali su minori di 3 e 9 anni. Una delle piccole vittime è sua nipote. E adesso spostiamoci al tempo ovviamente alla pagina dedicata al Molise. Naturalmente anche qui si riprende il caso del nonno che ha approfittato della nipotina. Abusi sessuali su due bambine. Anziano in manette. Le vittime hanno solo 9 e 3 anni. Decisive le confidenze fatte a un'amichetta. Campobasso storia agghiacciante ricostruita dalla polizia. A Tavenna nasce un comitato per dire no all'antenna telefonica nel centro del paese. Sempre a Campobasso, la qualità dell'aria. Sei consiglieri regionali sollecitano la zonizzazione. Spostiamoci adesso su Termoli con Lashish nascosto negli slip. Arrestato un giovane. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva la sostanza stupefacente a un minorenne. In casa trovati altri 17 grammi di droga. Bene, e adesso spostiamoci ai quotidiani nazionali. Costi della politica il governo taglia così che apre la Repubblica. Napolitano corruzione vergognosa si scava nei conti della Polverini. Il premier accelera subito il via al piano amato per ridurre i fondi ai partiti. Berlusconi vanno cancellati. Monti non mi candiderò alle elezioni. L'ora di religione va modificata. I cattolici all'attacco di profumo. Il ministro ci sono anche altre fedi. Spaccio di cocaina. Arresto al Senato. È il direttore delle poste in affari con un boss della droga. E adesso spostiamoci al quotidiano di Roma. Il messaggero. Corruzione vergognosa. A fondo di Napolitano. Polverini esclude la ricandidatura. Duro monito del capo dello Stato. Berlusconi cambiare il finanziamento ai partiti. Bersani ripensare il federalismo. La nostra riforma fu un errore. Direttore delle poste al Senato arrestato per spaccio di cocaino. Usava l'auto di servizio per acquistare la droga da una banda albanese. Anche qui si riprende il caso del ministro profumo. Rivedere l'ora di religione a scuola. I cattolici protestano contro profumo. Passiamo ora alla stampa. Corruzione vergognosa. Napolitano. Scandali inaccettabili. La politica va risanata in profondità. Caso Lazio. Polverini. Non mi ricandido. Il malaffare c'era già. Berlusconi. Tutti responsabili. Basta con i soldi ai partiti. Obama. Gli islamisti sono contro i valori delle Nazioni Unite. Il monito all'Iran. Mai la bomba. Egitto, Mali e Siria. I fronti caldi nell'agenda ONU. Consumi a picco. Si vendono bene soltanto i telefonini. Il peggior calo dal dopoguerra. Giù mutui e caffè al bar. Libri meglio del previsto. La stampa riprende il caso Fiat. Marchionne. Marchionne hai 6.000 di Fiat. Resto con voi. Basta attacchi all'azienda. Ecco la verità. Il can intollerabile ciò che abbiamo subito. E passiamo al Corriere della Sera. Tutte le spese senza controllo. I soldi a fondo perduto ai politici. Regione per regione. Napolitano. Casi vergognosi. Berlusconi. Via i finanziamenti. Le misure allo studio del governo. Marchionne. Non mollerò business da ripensare. I 6.000 dirigenti e quadri Fiat. Disabili ridotti in schiavitù dal racket dell'elemosina nelle vie delle nostre città portati dalla Romania e costretti all'accattonaggio. Spostiamoci adesso al giornale. Lo scandalo nel Lazio ovviamente è l'argomento che fa un po' da padrone per tutti i quotidiani nazionali. L'ultima di Batman pensionato a 50 anni. Grazie a una vecchia norma Fiorito avrà diritto a un vitalizio di 4.000 euro al mese. La crociata di Berlusconi mai più finanziamenti ai partiti. Vendola salvato dall'arresto. I guai del governatore pugliese. Il multiculturalismo del ministro. Ora ci faranno studiare l'islam persino a scuola riprendendo quanto abbiamo detto prima relativamente alle modifiche che vuole apportare il ministro profumo sull'ora di religione. E adesso passiamo invece al libero. Costano 24 miliardi all'anno per salvare l'Italia via un politico su 5. Con i soldi risparmiati si abolirebbero le addizioni IRPEF. Assieme alla cancellazione dei finanziamenti ai partiti è il solo obiettivo che deve darsi ora il centrodestra. Berlusconi il PDL non è allo sbando ma non è vero va rifondato. Poste del senato il capo arrestato per spaccio è del partito di Rutelli. La sinistra guerra di religione del ministro blitz di profumo a caccia di una candidatura. Passiamo al quotidiano economico del sole 24 ore. Chiapre ovviamente riprendendo l'argomento dell'eurozona. Eurozona verso il bilancio. Allarmi fieme sul debito greco. Le banche inglesi rinunciano al LIBOR. Ok dei governi al piano va a rompe. L'area euro lavora un budget comune per sostenere le economie deboli. Napolitano scandali vergognosi risanare contro l'antipolitica. Il presidente l'Italia può farcela se si impegna. Per il lavoro squinsi più produttività anche nel pubblico in piego. Misure per la crescita per le infrastrutture servono 5 miliardi nel 2013. Priorità a sette grandi opere. Scuola maxi concorso. Il mezzogiorno fa il pieno di cattedre. Servono più fondi per Bruxelles. Entro l'anno l'intesa sul budget. Parla il commissario dell'Unione Europea al bilancio Lewandowski. Draghi alla Merker. Unione Europea nella giusta direzione. Il governatore in missione a Berlino. Ottimista sull'eurozona. Marchionne. Ce la faremo ma non da soli. Fornero chiede collaborazione ai sindacati. I leader restano critici. L'amministratore delegato del Lingotto rassicura i dipendenti del gruppo. Non vi lascio. La Fiat avrà un nuovo modello di business. E adesso spostiamoci sulla pagina sportiva andando a vedere le prime pagine del Correre dello Sport prima e della Gazzetta dello Sport dopo. Fermata la Juve. Una grande fiorentina fa tremare Conte e interrompe la sua serie di quattro vittorie. Traversa di Jovetic è 0 a 0. Così titola il Correre dello Sport. E il Napoli a questo punto può volare in vetta. Per gli azzurri del Napoli stasera grande sfida al San Paolo contro la Lazio. Mazzarri vuole agganciare Conte. Petkovic pensa al sorpasso. Sempre stasera Milan Cagliari. Allegri si gioca la panchina e Cellino lascia la presidenza. Chievo Inter. Stramaccioni cambia difesa. I conti bisogna farli alla fine. Roma Sampdoria. Zemana Ferrara. La sua immagine lesa dai tribunali non da me. Pescara Palermo. Stroppa nervoso. Svegliamoci. Gasperini cerca i primi punti. E mentre adesso spostiamoci alla gazzetta dello sport. Super Fiorentina. La Juve frena. Firenze capolista senza gol. 0 a 0. Dopo quattro vittorie di fila i bianconeri soffrono e pareggiano. Una traversa di Jovetic è una grande occasione sbagliata da Liacic. Carrera ammette. Bravi a contenerli. Al Milan è già l'ora del tasso. La maledizione San Zero. Tassotti al posto dello squalificato Allegri col Cagliari. Ancelotti sponsor di Inzavi. Cellino mi dimetto. Per l'Inter a Verona si era fatto male. Il rilancio di Kivu nello stadio Brivido. Bene, per la rassegna è tutto. Adesso guardiamo insieme l'intervista che il nostro editore Federico Mandato ha realizzato con il consigliere regionale Antonio Daimmo. Un ricordo, insomma, quando Florinto Daimmo torna a casa contento per aver raggiunto che cosa? Quello più recente, posso dirlo, è stato quello di aver puntato, di aver creduto alla realizzazione di una struttura sanitaria, quella dell'Università Cattolica, quella che poi è stata realizzata qui in Molise. Possiamo anche dire che però in questi anni non si è premiata sempre la meritocrazia. Insomma, la politica è entrata spesso e volentieri anche nelle scelte di direttori, dottori, infermieri. C'è anche, in piccola casomai percentuale, c'è però un po' di responsabilità. Io ritengo che il Molise abbia ottime professionalità. Il problema è legato, soprattutto in questa fase, con il piano di rientro e il blocco del turnover, della impossibilità di avere un'assistenza che possa essere chiamata tale, un'assistenza sanitaria. Perché dopo la fase dell'intervento, fatto chirurgico, c'è anche la fase dell'assistenza. Ma se io ho sei strutture, parlando del pubblico che le coinvolge direttamente, insomma, sei strutture pubbliche e un numero di persone pari a 100 distribuite su sei ospedali, sono 18, 17, qualcosa. Se questo personale, in una riorganizzazione, in una rivisitazione, riesco a spalmarlo su strutture ospedaliere, volte a realizzare, a portare avanti un'azione più chirurgica nella sua riorganizzazione, insomma, di ospedale, che sia un DEA di primo o secondo livello, questo aiuterebbe molto. Continuiamo la cacchierata con il Consiglio regionale Antonio Daimmo, eletto tra l'altro con Grande Sud, dobbiamo dirlo, insomma, un'esperienza di Miciche che ora sta tentando scalate a Palermo. Diceva un'altra volta nella trasmissione Antonio Chieffo che mi siete fatti una battuta, diceva che fra un po' ci chiamerà con colla e pennello e dovremmo andare a Palermo. È vera questa battuta. Sì, sì, ce la ripetiamo spesso. Devo dire che Miciche per il ruolo che ha ricoperto come sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri con la Delega Alcipe ha dato anche un grosso contributo, un sostegno anche a alcune difficoltà in cui si trovava all'epoca la Regione Molise. Così come voi l'avete dato come movimento? Il risultato è stato importante, potrei dire, se mi permettono anche gli altri colleghi degli altri partiti, eclatante, visto che abbiamo registrato con i risultati elettorali il secondo partito nella provincia di Campobasso. Quindi stiamo parlando che è un risultato, è inutile nasconderlo, a cui ha contribuito molto anche l'assessore Chieffo. Tutti aspettano questo 16 ottobre, questi ricorsi, la possibilità che si torni a votare, hanno un po' bloccato la macchina organizzativa anche della sanità in Regione? C'è stato un rallentamento, ovviamente in questa fase più si avvicina questa data del 16 ottobre più anche l'attenzione ricade a questa data. Devo dire che però in maniera proficua noi abbiamo interrotto i lavori per 6-7 giorni nel periodo di agosto, il 18 eravamo di nuovo in commissione per portare avanti degli obiettivi, delle scadenze importanti, non abbiamo lesinato in nessun modo impegno e presenza. Mi auguro che tutto questo dia anche dei frutti. Per una persona che ha fatto il dirigente, che ha ricoperto anche incarichi importanti, vede un po' alti pagamenti per un consigliere regionale? Se ne è parlato tantissimo, anche Tg1 ha messo alla ribalta questa Regione. Per uno che ha sempre lavorato e ha guadagnato, è alto un po' il costo della politica, il consigliere regionale del Molise. Lei si sente che costa tanto la Regione? Devo dire, ecco, lei mi ha fatto prima una domanda all'inizio, questo non è che significa... Sulla classe dirigente, in pratica. Sì, 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 è un impegno continuo, costante per l'interesse della comunità. Essere presenti sul territorio ha anche dei costi. Per come viene vissuta, ognuno poi risponde del proprio operato, tenta di essere presente su tutto il territorio regionale. cercando di avere tutta una serie di elementi, questo avveniva anche per il passato, per poi dare il miglior contributo alla realizzazione, alla formulazione di leggi, di provvedimenti. Cioè, in pratica, se uno lo vuole fare seriamente, lavora quotidianamente, non è un costo alto. Questa mi pare in sintesi la risposta. Guardi, potrebbe essere anche eventualmente rivista. Adesso noi siamo anche subiudice per quanto riguarda la rivisitazione dello statuto. Si parla anche di una riduzione, ovviamente, del numero dei consiglieri regionali. La riduzione dei consiglieri, lei pensa che si farà? Perché, insomma... Devo dire che c'è la volontà. Noi abbiamo avuto anche una riunione di maggioranza e stiamo tentando, in tutti i modi, di percorrere questa strada della riduzione del numero dei consiglieri regionali. Io l'ho sostenuta, come ho sostenuto la riduzione dei vitalizi in commissione, in prima commissione, sostituendo, perché io non faccio parte della prima commissione, solo della terza e della quarta, sostituendo il collega Cavaliere e ho sottoscritto la riduzione del vitalizio. Bene, adesso guardiamo insieme il tempo che farà. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per mercoledì 26 settembre 2012. Giornata parzialmente soleggiata, con velature e stratificazioni di passaggio, talora diffuse ma innocue. Temperature e lieve aumentano i massimi, con caldo ancora estivo. Venti deboli o moderati, mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 18, massima 26 gradi. Isernia minima 21, massima 28 gradi. Termoli minima 15, massima 29 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Molise TV alle 13.50. Buona giornata. Grazie a tutti.